In questa video lezione parlerò dei vari tipi di staccato che si possono ottenere con il nostro strumento. Se noi pensiamo, un violinista o un violoncellista, conoscono molti tipi di staccato. Intanto loro hanno arcata in su e arcata in giù e poi hanno il balsato, il picchettato, il pizzicato, lo staccato detaché. Possono suonare con l'arco alla punta o con l'arco al tallone, quindi ottenendo una infinita varietà di staccati. E noi con il flauto possiamo fare altrettanto, non dobbiamo cioè limitarci al semplice T o TK per il doppio staccato. Vediamo, allora cominciamo dal primo staccato quello standard che si ottiene mediante l'azione della lingua come a pronunciare la T, quindi lo staccato semplice. E questo si ottiene con T. Se noi invece pronunciamo D, avremo uno staccato molto più scuro. possiamo avere poi lo staccato soltanto con il K che serve anche a rinforzare questo colpo di gola. La stessa sequenza la posso eseguire però con D, G, quindi lo staccato sarà un po' più lungo, un po' più scuro e un po' più morbido. Abbiamo poi uno staccato poco utilizzato che si può ottenere come a pronunciare la consonante L, L. In questo modo noi otterremo uno staccato molto 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 leggero. Ascoltate. Ecco, questo è uno staccato poco utilizzato ma che ci potrebbe tornare molto utile proprio quando dobbiamo eseguire, quando dobbiamo suonare l'inizio della fantasia di Fauré. Abbiamo poi un altro staccato che potremmo ottenere pronunciando la consonante N, N. Quindi la lingua tocca il palato, N, e questo staccato è come quando il violinista riprende l'arco, cioè non alterna le arcate in giù e in su, ma esegue lo staccato sulla stessa arcata. E guardate dove lo possiamo trovare. Cioè, io non eseguo le crome in levare pronunciando T e T, che forse sarebbero troppo pronunciate, ma con la N. Ancora lo staccato con la R. Questo però potrebbe esserci molto comodo quando dobbiamo eseguire delle successioni di semicrome puntate seguite dal biscrome. Possiamo quasi definirlo un doppio staccato di lingua. La prima nota la pronunciamo con T, la seconda con R, ma non con la R come la utilizziamo noi per dire Roma. La R come la utilizzano gli americani quando dicono New York, Siri. Siri è una R che sembra una T al contrario, cioè non T, ma RE. TI RE. TE 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 RE. È una staccata molto, molto, molto interessante. Abbiamo poi un ultimo staccato che si fa soltanto con le labbra, quindi la lingua non entra per niente in gioco. E' in questo modo. Ovviamente aiutandoci un po' anche con l'impulso diaframmatico, come abbiamo detto in una precedente video-lezione. E questo lo potremo trovare in Mozart. Ancora sempre Mozart. Io la lingua non lo sto utilizzando affatto. E questo dà uno staccato particolare, leggero, ma comunque molto preciso e privo della forza dell'attacco iniziale. Grazie, alla prossima video-lezione. Grazie a tutti.